Mentre in tutta Italia si assiste ad un generale incremento dei contagi in Molise sale di una unità il numero delle persone che ha contratto il SARS-CoV-2, l'ultimo caso reso noto dalle autorità sanitarie regionali che hanno accertato 168 tamponi, è stato verificato di nuovo a Termoli e si tratta di una persona appartenente al cluster della Grecia. Dunque ancora una volta la conferma che i nuovi casi in aumento oggi in tutto il paese sono legati alle ferie estive e alla Movida, alle maggiori occasioni di incontro in luoghi spesso troppo affollati. Tornando invece al Molise, questo il bollettino, 58 i casi attualmente positivi, 52 nella provincia di Campobasso, 6 in quella di Sernia. Mentre resta ricoverata una persona in malattie infettive sono 117 i soggetti in isolamento.